Una quarantina di morti e decine di feriti negli scontri fra filo russi e filo Kiev a Odessa. La maggior parte dei decessi si registra in seguito all'incendio della sede dei sindacati, dove si erano rifugiati i filo russi. Secondo le prime testimonianze, dei manifestanti pro Kiev hanno circondato il palazzo e poi qualcuno ha piccato il fuoco. Molte persone avrebbero trovato la morte a causa dei fumi, altre gettandosi dalle finestre per sfuggire alle fiamme. Nella giornata in questo porto sul Mar Nero si erano già verificati scontri che avevano provocato quattro morti. Le due parti si rinfacciano alla responsabilità. Secondo un parlamentare locale, la polizia non avrebbe fatto nulla per impedire gli incidenti.